Ad un mese dal voto per il rinnovo dell'amministrazione comunale, rimpasto di giunta a Vigo Dardere, il sindaco Adolfo Zordan, che si ricandida alla guida del comune, ha ritirato le deleghe a due assessori, Monica Cesaro e Omar Giacometti, che hanno annunciato di appoggiare un altro candidato alle prossime amministrative. Io credo che il nostro rapporto fiduciario in questo senso venga a mancare. Un po' sono deluso perché non sono stato avvertito un pochettino in ritardo, forse all'1.41 di notte, però è una scelta democratica che io rispetto e se hanno scelto quella strada ho dovuto, credo sia un atto istituzionale dovuto, mi sarei aspettato da loro le loro dimissioni, non che fossi io a fare questa cosa, perché sinceramente se uno passa da un'altra parte dopo 5 anni, qualche mese di collaborazione dovrebbe perlomeno dare le dimissioni. Sono dispiaciuto, comunque auguro a loro un buon lavoro, la nuova avventura che stanno affrontando con un'altra lista. Io anche li ringrazio per la collaborazione, però sinceramente credo sia stato un atto dovuto e mi sarei aspettato da loro le dimissioni portate da loro.